Radio Bari, le 8 e 12 minuti di mercoledì 11 ottobre, ancora bentrovati a questa puntata di Be and the Gang. Siamo nel secondo dei nostri spazi di approfondimento e come vi avevo anticipato all'inizio della puntata, quest'oggi torniamo a parlare del parco Mimmo Bucci e, come ha scritto pochissimo tempo fa il consigliere Melchiorre su Facebook, del fucchio schetto della legalità. Abbiamo parlato tantissime volte del giardino Mimmo Bucci, intitolato appunto al cantante che ha perso la vita e tante volte abbiamo avuto ospite ma anche sentito nelle nostre interviste la mamma Franca Bucci che intanto salutiamo un vero gioiellino della città di Bari, davvero il giardino della legalità, ma come spesso accade nel capologo pugliese poi con il passare del tempo lasciato nel degrado e forse anche un po' nell'abbandono. Il chioschetto che è la struttura che è al suo interno è rimasto abbandonato per quattro anni e poi dopo una serie di vicissitudini che ripercorreremo comunque nel corso della puntata si è riusciti finalmente ad affidarlo ma questo affidamento è durato solo quattro mesi, quindi una inaugurazione fatta in Pompamagna ma durava solo quattro mesi e nessuno lo sapeva. Di questo parleremo oggi, vi presento immediatamente i miei ospiti, per la maggioranza abbiamo Massimo Maiorano consigliere comunale, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. E poi invece per l'opposizione Filippo Melchiorre, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti i tele e radio ascoltatori. Vi anticipo che tra pochissimo, come sempre ci collegheremo con il nostro Roberto Maggi che pioggia permettendo, è già lì sul posto con il vice sindaco e assessore al patrimonio Pierluigi in trona intanto io comincerei con voi due ovviamente dopo aver ricordato il numero per intervenire in diretta 080 501 4668 Cominciamo ovviamente dalle opposizioni. Consigliere Melchiorre, che cosa sta accadendo? Beh, lo ha detto lei molto bene, nel senso che quattro mesi fa in Pampamagna, la presenza del Presidente della Regione, del Sindaco, di tutte quante le autorità, si è presentato il chiosco della legalità. A distanza di quattro mesi invece rileviamo, noi diciamo nutrimmo subito delle forti perplessità in merito ad altre situazioni e purtroppo dopo quattro mesi ai noi, perché a noi quando le cose non vanno bene ovviamente non siamo felici, però prendiamo atto della chiusura del chiosco della legalità e nel sociale si sa che quando si fornisce un servizio e quindi quel servizio diventa anche il simbolo del territorio. E poi dopo quattro mesi tutto salta, ecco, ci lascia molto interdetti perché significa far capire la città che l'istituzione ha mollato, l'istituzione non c'è più e quindi lì dove, come dire, era nato un presidio della legalità, oggi ci ritroviamo di fronte a una totale assenza del chiosco della legalità. Questa è una cosa che ci rammarica, però non possiamo prendere atto del fatto che l'amministrazione evidentemente è stata, diciamo, fallimentare, è stato un fallimento dell'amministrazione e su questo voglio dire, chiederemo conto poi in consiglio comunale, chiederemo ancora di più conto leggendo le carte e capendo che cosa è successo realmente. Ovviamente tra pochissimo la parola al consigliere Maiorano per la replica. Prima prendiamo una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Saluto agli ospi. Buongiorno. Io, boh, quando sento queste cose non capisco, non è accusare qualcuno che non fa bene il suo lavoro, però ci dico, ma la gente dov'è? Quando si fanno queste cose qui, c'è possibile mai che nessuno ci sia accorto che era tutto, è stato fatto tutto per la durata soli di quattro mesi? Cioè io, ripeto, impazzisco a sentire queste cose. Poi un'altra cosa, una tiratina di orecchie a Melchior, la S. Bari non esiste più, si chiama Ficci Bari, visto che è occupato di stadio del Bari solo in determinati momenti. Grazie, buona giornata. Grazie, questa tiratina di orecchie, ma a volte davvero, insomma, sono errori che non significano nulla, insomma. C'è una proprietà transitiva che cambiando l'ordine della dente, il risultato non cambia. Questa magari è un'altra tiratina di orecchie. Sul Bari, il Ficci S, li abbiamo parlato ampiamente. E allora tra pochissimo ci collegheremo con Roberto, che ho già visto con il vice sindaco Pierluigi Introna, intanto consigliere Majorano. Ovviamente io mi unisco anche all'appello, alle parole del nostro ascoltatore, com'è possibile che nessuno sapesse che... Insomma, si parlava di soli quattro mesi. Infatti io ricordo invece una cosa bellissima, quando è stato inaugurato il giardino, non solo il bar. E quella fu davvero una festa. E perché ci sono tutti, la maggioranza e l'opposizione. Tutti hanno partecipato, perché hanno creduto, diciamo, in quel parco della legalità. La legalità bipartisan, insomma. Ma non solo, doveva servire a unire, a mettere insieme gli anziani, i bambini, con tutta l'opera salesiana, a dare un contributo, diciamo, a un valore aggiunto a quello che è, diciamo, quello che serve poi per l'amministrazione comunale. Purtroppo questi sono, diciamo, errori. Quando, diciamo, c'è stato questo affidamento del bar, probabilmente non sono state tenute in considerazione tutte le attenzioni. Ma io, diciamo, supererei questa fase, perché a mio avviso bisogna sempre vedere in senso positivo. Bisogna costruire. So che l'amministrazione comunale ha fatto una serie di interventi, circa 36 interventi per la sistemazione dei cancelli, i lavaggi delle giostre e delle giostrine, la pulizia straordinaria. Ha fatto tutta una serie di cose, perché ha fatto bene. Però, ecco, probabilmente serve qualcosa in più. Cioè, serve un presidio, diciamo... Esatto. Un guardiano, molto banalmente, che non si riesce, chissà perché. Io, qualche tempo fa, ho fatto una proposta, lo dicevo prima, nei corridoi. Ho fatto una proposta per istituire un presidio dei carabinieri proprio a libertà, nel cuore dove c'è bisogno, diciamo, di una maggiore legalità e della presenza dello Stato. Addirittura c'era la possibilità di istituire un presidio nell'ex manifattura di tabacchi, un'area di 200 metri quadrati bastano. C'è anche l'appoggio, addirittura la proposta anche da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri per fare tutta questa operazione. E pare che anche il Sindaco e il Direttore Generale del Comune di Bari abbia accolto questa proposta. Quindi, probabilmente, noi con questo tipo di intervento, potremmo dare veramente una risposta seria. Cioè, seria a questa micro criminalità e criminalità organizzata che c'è. Io l'ho fatta già da un anno questa proposta, l'ho detto in Consiglio Comunale, ma sicuramente è arrivata anche agli organi di stampa, perché più volte avevo dato queste indicazioni. Però pare che ci sia questa... L'amministrazione non vi, non ci ascolta, evidentemente. Cerchiamo di essere uniti per, diciamo, combattere la criminalità e per tutelare, diciamo, un bene pubblico. Questo è l'auspicio, ovviamente, di tutti. Mi interrompo solo un secondo, perché abbiamo Roberto Maggi con il Vice Sindaco Pierluigi Introne, insomma, sotto la pioggia, ci stanno aspettando. Roberto, vengo da te. Buongiorno, Serena, e buongiorno ai nostri ospiti. Il Vice Sindaco Pierluigi Introna è Assessore al Patrimonio, è Vito Giuseppe Laggioia, che è il responsabile amministrativo dei Salesiani Redentore. Buongiorno. Insomma, siamo qui davanti al chioschetto, all'interno del Parco Mimmo Bucci, che l'hai ricordato tu, Serena, poco fa. Deve essere, e non utilizziamo il passato, deve continuare ad essere un presidio della legalità in questa città e soprattutto in questo quartiere. Eppure ci sono tante difficoltà che state incontrando. Ultima appunto questa del fatto che attualmente il chiosco è vuoto. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti in studio. Sì, intanto noi siamo, come dissi già qualche giorno fa, visto che noi spesso siamo qui in questo giardino, insieme con la Parrocchia e con Telebari. Quello del chioschetto è un problema, è un problema perché noi abbiamo fatto un bando che è andato deserto, eppure il bando era appetibile, diciamo, nelle sue forme e nelle sue proposte. Grazie alla generosità dei Salesiani, comunque sia c'è stata una stagione, diciamo, di apertura di questo chioschetto, perché non bisogna comunque non, diciamo, sottacere il fatto che i chioschetti sono stagionali. Cioè, chiaramente con l'inizio dell'inverno è molto difficile che in tutta Italia un chioschetto si mantenga un minimo di business rispetto all'estate. Dopodiché, adesso, visto che noi non possiamo approfittare della generosità dei Salesiani, che non sono barman o non sono gestori di attività commerciali per professione, io sto studiando un nuovo bando, ma a me basterebbe anche una manifestazione di interesse con la quale coinvolgere i barristi o chi ha attività commerciali già consolidate nel settore, diciamo, appunto, di bar o piccola ristorazione per creare in questo chioschetto un satellite di un'attività già esistente, con un accordo, però, che terrà dentro anche i Salesiani. L'accordo sarebbe, noi vi diamo questo spazio, che comunque è uno spazio commercialmente utilizzabile ad estate e che può rendere, minimamente rendere, però voi mi fate attività in uno con il programma organizzato con i Salesiani. Perché noi quest'estate, chiedo scusa, quando c'è stata attività grazie ai Salesiani e grazie al Comune di Bari, il parchetto, perché di parchetto trattasi, ha vissuto, ha avuto una vita, ha dato un servizio alla cittadinanza. È chiaro che con l'approssimarsi dell'inverno, la pioggia di oggi, il buio, tutto diventa più difficile. Ma voglio dire, in tutta Bari è così. Non è che il parco Bucci è diverso o ha dinamiche diverse, sia meteorologiche che commerciali, da altre parti della città. Chiedo a Vito Giuseppe Laggioia molto brevemente. Il punto è uno, voi non siete un ente commerciale. Voi dovete naturalmente mantenere questo chiosco come presidio di legalità per la vostra presenza, che comunque si fa sempre sentire come un grande operatore, soprattutto sociale, all'interno di questo quartiere. Sì, buongiorno a tutti. Io confermo, diciamo, la sperimentazione che c'è stata quest'estate è stata assolutamente positiva, perché la gestione di questo chiosco ci ha permesso anche di mettere in essere delle attività di animazione educativa e culturale, che è la nostra vocazione principale. Sicuramente questa esperienza va archivata come un'esperienza sicuramente irripetibile e che in qualche modo ha dimostrato che quando le cose si fanno per bene, quindi un ente commerciale come la società che ci ha garantito l'apertura del chiosco fino a settembre è la volontà dei salissiani di incontrare la cittadinanza per in qualche modo mettere in essere delle buone pratiche funziona. Insomma, diciamo che in buona sostanza non vi piegherete di fronte a questo blocco, questa piccola pausa, cercherete comunque di andare avanti nel progetto. No, assolutamente, noi siamo sempre qui sul campo e quindi rinnoviamo la nostra disponibilità a portare avanti quanto di buono è stato fatto e aspettiamo che una partnership con un ente commerciale ci permetta di riaprire il chiosco. Studio. Grazie a Roberto e grazie ai tuoi ospiti, soprattutto torneremo a collegarci con te tra pochissimo. Intanto prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. La criminalità esiste dappertutto, però c'è anche molta colpa da parte dei cittadini. Noi vediamo, sappiamo e non facciamo neanche un numero di telefono, perché noi questi personaggi li conosciamo, non siamo bambini o ragazzini, vediamo che girano in bicicletta, che fanno telefonate addirittura attraverso il call center, i segnali queste persone ce li danno. Noi siamo intelligenti, non siamo stupidi, allora sfruttiamo la nostra intelligenza, dobbiamo chiamare ogni volta le forze dell'ordine perché noi dobbiamo fare anche la nostra parte, non sempre al comune, al comune e alle istituzioni, perché noi li conosciamo meglio di voi. Voi peccate semplicemente che gli date anche un posto di lavoro a queste persone, non a chi veramente vuole lavorare. Grazie e buongiorno. Grazie, grazie alla signora per il suo intervento. Intanto vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 080 501 4668. Insomma la novità nelle parole del vice sindaco e assessore al patrimonio per Luigi Untrona, un nuovo bando declinato in maniera diversa, magari speriamo che qualcosa cambi, perché ricordiamo di bandi ne sono stati fatti già due e sono andati deserti. Poi insomma questo affidamento ai salesiani e poi lascio continuare a lei, consigliere Mecchiore. E poi ecco io per l'onestante elettuale devo dire delle cose perché sennò poi, come dire, qui facciamo il teatrino e non ci diciamo delle cose. Innanzitutto il vice sindaco e contro non c'entra nulla perché è subentrato dopo e quindi le responsabilità politiche non sono sue e quindi mi rendo conto che in questo momento ovviamente deve difendere una cosa che non ha prodotto lui. Ecco, io mi chiedo, i cittadini, che cosa penseranno della politica? Della politica alta, la politica che cerchiamo tutti quanti, nel nostro piccolo di cercare di portare avanti ogni giorno attraverso le nostre azioni. Ma che cosa penseranno se quattro mesi fa in Pompamagna, presidente della regione Puglia, sindaco di Bari e tutte le istituzioni, sono andate a promuovere un chiosco della legalità che non è un'attività commerciale, non deve essere un'attività commerciale, ma deve essere un simbolo, un simbolo della legalità in un quartiere dove, voglio dire, sono numerose le denunce, la signora lo ha testimoniato qualche secondo fa rispetto a delle situazioni illegali che si verificano. Che senso ha fare una grande manifestazione per annunciare che questo chiosco, che era un simbolo e che purtroppo è diventato adesso un singolo del fallimento di De Caro, poi chiuderlo dopo quattro mesi, sarebbe stato più onesto dire che fra quattro mesi questa grande multinazionale che ha deciso di collaborare con i salesiani per aprire questo chiosco, un chiosco, al di là dell'aspetto climatico, diciamo del tempo che non c'è, perché il chiosco può essere utilizzato H24 a 365 giorni l'anno, se è un presidio della legalità. Ecco, che senso ha non dirlo? Che senso ha accorgersi dopo quattro mesi, dopo che noi all'inizio abbiamo detto guardate che c'è qualcosa che non va, poi qualcosa lo verificheremo stata facendo. Che senso ha non dirlo subito? Questo è il problema politico, serio, perché poi la gente non ci crede più alla politica, non ci crede più agli annunci, non ci crede più ai tagli dei nastri. Allora lo si fa a livello sperimentale, come diceva il responsabile dei salesiani. Come si fanno tante cose a livello sperimentale. In maniera slow, in maniera lenta, non con la banda, con le maggiorette. Ecco, questo è qualche cosa che, come dire, suscita il forte dissenso da parte nostra, ma io sono convinto anche del collega Maiorano, perché so che anche lui è onesta intellettualmente, rispetto a questi annunci pomposi, dopo quattro mesi ci si accorge che il bando era per quattro mesi. Questa è la cosa che a me, come dire, fa ruotare tutto nella pancia. E su questo io chiedo al vicesindaco, in trono, ripeto, la cui responsabilità è inesistente, perché lui è entrato dopo, di riconoscere questo. Non si può dire che è un fatto sperimentale, un fatto legato al crimine, e poi una multinazionale si spaventa di gestire un chiosco per una persona. Anche perché, l'abbiamo detto all'inizio, il chioschetto era abbandonato da quattro anni. Mi sembra un po'. Si poteva pensare a una soluzione più definitiva, no? Prendiamo la telefonata e poi ovviamente la parola al consigliere Maiorano. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Mi sente? La sentiamo, prego. Devo chiederle di abbassare il volume del televisore. Sono un cittadino dell'acqua. Pronto? Deve abbassare il volume del televisore, altrimenti diventa complicato dialogare. Sì, pronto? La sentiamo, la sentiamo. La sentiamo? Mi sente? Prego, vada. Pronto? Allora, chiedo al nostro ascoltatore ovviamente di richiamarci dopo aver abbassato il volume del televisore, altrimenti diventa davvero complicato. 080 501 4668, ovviamente consigliere, bisogna replicare alle parole di Filippo Melchiorre. In più, un'altra domanda che io aggiungo, ovviamente adesso bisogna gestire l'emergenza. Il parco Mimmo Bucci comunque è stato spesso teatro di atti di vandalismo, quindi magari la cosa necessaria, magari più utile in questo momento sarebbe mettere un guardiano dentro. Beh, io penso che comunque bisogna istituire un tavolo concertativo anche con, l'ho detto prima, anche con le forze dell'ordine, perché bisogna attenzionare il quartiere, il territorio, probabilmente anche tutta l'opera salesiana che saluto deve avere un ruolo diverso, cioè non quello di gestire il bar, ma quello di intervenire, utilizzare la struttura per fare attività culturali, sociali e quant'altro, perché quello è il messaggio, il segnale. Cioè noi più volte abbiamo chiesto, sia a Don Francesco, ma io addirittura sono un ex allievo salesiano, faccio parte dell'Unione Ex Allievi Salesiani di Bari, che saluto. Ecco, tutti insieme abbiamo sempre cercato di portare un valore aggiunto, soprattutto ai ragazzi del quartiere che frequentano il Redentore, cioè che hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di attenzione. E devo dire che questo lavoro viene fatto. Eh, probabilmente è stato un errore di percorso. Io sono convinto che il bar va recuperato, ma va recuperato come si è fatto in altre circostanze, con la collaborazione di tutte le istituzioni, anche delle istituzioni delle forze dell'ordine. E quando ho proposto di istituire la caserma, un presidio dei carabinieri nel quartiere Libertà, è anche per questo motivo, perché in quel quartiere purtroppo non esiste né un presidio dei carabinieri, né un presidio di polizia e ci sono tanti, tantissimi abitanti e tanti, tantissimi problemi. Poi magari nel quartiere, nessuno me ne voglia, quartiere Poggio Franco o quant'altro, magari ci abbiamo di tutto. Quindi lì bisogna attenzionare e ci vuole la collaborazione di tutti. Cioè io non posso oggi dare colpe quattro mesi fa, cinque mesi fa. So che era difficoltoso anche istituire un bando. Sappiamo tutti che il bando è andato deserto. Questo è un segnale importante. Per questo motivo andava fatto prima un'azione da parte dell'amministrazione, perché evidentemente c'era qualcosa che non andava. Quindi mi dai ragione. Quello che voglio dire, che non per un vanto, si possono anche vedere gli atti verbali, anche sul mio sito internet, questa proposta di istituire un presidio dei carabinieri nella ex manifattura di tabacchi, dove addirittura servono solo 200 metri quadrati, non è partita nemmeno da me, addirittura dalle forze dell'ordine. Massimo, noi su questa ipotesi ci siamo e siamo uniti. Però sugli errori mi fa piacere che tu convieni sul fatto che l'amministrazione è stata fallimentata. Ti chiedo bipartisan su questa cosa, perché è importante salvare il quartiere e il territorio. Prendo l'impegno pubblico, noi ci siamo, però su questo fatto c'è stato l'errore. Indiretta. Dobbiamo tornare dal nostro Roberto. Roberto, vengo da te. Scusatemi. Beh sì, la discussione un po' si sta accendendo, anche perché il tema della legalità poi non riguarda soltanto questo quartiere, riguarda un po' tutta quanta la città, è una missione molto molto difficile. Chiedo proprio all'assessore in trona, voi avete detto che comunque non mollerete, cercherete di trovare una soluzione diversa, però il problema è più ampio. Come riuscire, tenendo presente anche i poteri che sono in un'amministrazione comunale, come riuscire a mantenere, continuare a mantenere un segnale di legalità? Oggi possiamo dirlo, purtroppo questo è un gol purtroppo di chi purtroppo non vuole bene a questo quartiere. Sì, intanto c'è da dire questo, il parco Bocci, che intanto io saluto la signora Bocci, che è una persona squisita e riconfermo la nostra attenzione, il mio impegno massimo a che il nome del figlio venga onorato degnamente anche in questo parco. Però il parco Bocci è una parte della città. Allora come si fa? Si fa applicando sanzioni, gestendo e seguendo il territorio ovunque nel quartiere di libertà e in tutta la città. Non è che nel giardino Bocci non si deve delinquere e fuori dal giardino Bocci si deve delinquere. Cosa voglio dire? Voglio dire che poc'anzi è passato un ragazzo che il cui cane aveva fatto la cacca, ha preso la palettina e ha utilizzato il bidoncino posto all'esterno proprio di parco Bocci per depositare gli escrementi. Quindi non tutto è schifo, non ci deve essere questa cantilena perenne che al quartiere di libertà o al parco di Nobocci si delinque, tu, cur, punto e basta. È bugia. È un argomento che può essere utile per chi giustamente fa opposizione, ma non c'è una sconfitta, c'è un impegno. Assessore, ma proprio al riguardo, all'interno di questo parco, nello specifico, che intenzioni avete? Metterete una guardiania? Quale sarà la soluzione messa in campo dall'amministrazione? Allora, la soluzione, quello che dipende da me, che io posso fare è questo. Intanto aprire a un'offerta o a un bando che coinvolga, come diceva giustamente il rappresentante dei Salesiani, una partnership con chi già ha un'attività commerciale di ristorazione o un bar e quindi rilanciare in questo modo il chioschetto che altrimenti, come in tutto il resto d'Italia, vive di una stagione. I chioschi poi, arrivato l'inverno, chiudono, quindi non c'è nessuna sorpresa nel fatto che un chioschetto arrivato a ottobre con la pioggia, con l'inverno e con il freddo finisca la sua attività per ricominciarla in primavera, quindi prima verità da dire. Secondo, a mio sommesso parere, e io sto spingendo molto per questo in Giunta e sto facendo tutte le pressioni possibili sul Sindaco, visto il costo degli interventi che abbiamo avuto in un anno su questo giardino, che sono come numero superiori a quelli applicati sul Parco 2 Giugno, è la verità, non sto millantando, sarebbe corretto pensare a una guardiania fissa. La guardiania fissa, peraltro, ho già fatto i conti, ci costerebbe di meno affidarla all'esterno, a una società esterna, che non affidarla a molti servizi, per esempio. Altro nodo da sciogliere e da risolvere. Questa è la mia idea. In secondo luogo, va da sé che tutto intorno e in tutta la parte sensibile di questo quartiere bisognerebbe essere più presenti anche con le forze dell'ordine, perché solo così, rieducando, cioè se uno non pulisce fuori da Parco Bucci e viene sanzionato, se lo ricorderà anche quando sarà dentro Parco Bucci, non il contrario. È importante fare rete con le forze dell'ordine, con l'amministrazione, la parrocchia e l'oratorio Salessiani da questo punto di vista sicuramente sono un esempio. È un esempio che state cercando di esportare in tutto quanto il quartiere, lo avete già fatto, lo fate tantissimi anni all'interno dell'oratorio. Sì, noi quando abbiamo preso in carico un po' la gestione di questo chiosco, di questo giardino, avevamo e abbiamo l'idea precisa che attraverso comunque l'impegno sul territorio costante, così come abbiamo fatto in estate con l'organizzazione di eventi, concerti, abbiamo portato qui anche molti ragazzi dell'oratorio che partecipavano all'estate ragazzi. Questo è sicuramente un impegno che noi continueremo a prescindere. Secondo lei è importante avere una guardiania in questo posto? Può essere un segnale positivo o può essere un segnale al contrario negativo? No, assolutamente. Quando noi abbiamo sottoscritto l'accordo è stato uno dei punti fondamentali che volevamo mettere sul tavolo con il Comune, almeno nella parte iniziale. Quella di avere comunque una guardiania fissa che permettesse in qualche modo di dare la presenza fisica delle istituzioni. E darvi anche un supporto, insomma, da questo punto di vista. Studio. Grazie Roberto. Tra pochissimo per il collegamento finale. Intanto una telefonata. Pronto? Tu. Buongiorno Serena. Buongiorno Alessandro. Cercheremo di essere calmi stamattina. Stai calmo, stai calmo. Sì, perché gli aggettivi da sprecare sui signori li presenti in giro ne avrei tantissimi. Ma una domanda. Partiamo da un ordine cromologico. Sì. Quando fate campagne elettorali ci sfoggiate associazioni su associazioni che faranno cose meravigliose. Finisce la campagna elettorale e spariscono queste associazioni. Seconda cosa. Ma voi ci siete mai stati al Parco Mimmo Bucci? Cioè, ci andate al Parco Mimmo Bucci? Avete mai fatto attività con qualcuna delle vostre bellissime associazioni al Parco Mimmo Bucci? O al Redentore? Terza cosa. Noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto più volte. E con gli stessi bambini di otto anni che si fumano le sigarette e che fanno fare una cacca e una pipì al loro cane come vogliono. Gli abbiamo fatto fare dei cartellini di educazione stradale. Quando abbiamo fatto la manifestazione con gli amici di Mimmi Bucci al Parco Mimmo Bucci. Quinta cosa. Sono un imbecille. Può pensare che un guardiano a libertà possa fare qualcosa senza l'ausilio dei carabinieri o della polizia. Perché a libertà il guardiano vale quanto una carta di pepe. Quarta cosa. Questa amministrazione è fantastica. Ragiona come può su Facebook. Se ha mille like fa la cosa. Se non ce li ha, non la fa. Faccio l'esempio. Mimmo Bucci l'hanno presentato sei volte. Sei volte è stato abbandonato. Questo come la casa delle bambine e dei bambini che sta morendo a Modugno. Che doveva raccogliere abiti e giochi per i bambini meno agiati. E sta morendo vicino allo stadio. Come la rampa per disabili a pane e pomodoro. Che è stata rifatta ben quattro volte dall'amministrazione. E qui la domanda delle domande. Voi avete intenzione di farlo vivere quel parco? O siete qui uno per raccogliere voti in vista della prossima campagna elettorale? E l'altro per difendere la spana tratta? Qualcosa che è stato organizzato da imbecini. Perché solo uno che fa un bando. Se vi rendete conto? Avete fatto un bando e ora state a dire? In effetti quel bando era inutile. Ma perché ci avete preso nel 2017? Per dei cretini. Ultima cosa. E spero veramente che si faccia. Date una mano vera. Con soldi. Con crete. Con mezzi. Ai sanifiani. Perché l'unica possibilità in quel quartiere è di fare educazione con i giochi, con manifestazioni, eccetera. La repressione non serve a niente. Serve da una parte a fare campagna elettorale e dall'altra a trovare delle scuse. Avete fallito tutti ai nostri occhi col parco Mimmo Bucci. E ripeto, io sono d'accordo con Franca. La tagga andrebbe levata. Perché voi non siete degni di pronunciare quel nome. Visto che ancora ad oggi, dove è morto, è stato ucciso Mimmo Bucci, non c'è una zona traffico 30. E le luminarie fanno ancora schifo sul lungomare. Siete fallimentari. Buona giornata. Grazie ad Alessandro Antonacci. Avete davvero un minuto a testa per replicare perché siamo in chiusura. Consigliere Melchiorre? Il signor Antonacci ha mosso una serie di accuse nei confronti di chi amministra, ovviamente. È ovvio che l'azione da rivolgere sul quartiere di libertà non è ovviamente con gli organi di repressione solamente, ma attraverso una rete, una rete sociale, attraverso il coinvolgimento delle parrocchie, delle scuole, delle associazioni di volontariato alle quali faceva riferimento. Non è compito dei consiglieri comunali avere un'associazione per occuparsi di questo, per replicare parzialmente una delle accuse che sono state mosse solo nei confronti miei, ma tutto il resto era nei confronti dell'amministrazione. Ecco perché il mio auspicio, e su questo voglio dire, nessuno mi ha risposto, il rappresentante del Consigliere Magliorano, ripeto che è molto abile del declinare le accuse, ma anche il Vice Sindaco introna. Ma perché fate delle cose così eclatanti, se a fronte delle cose eclatanti non vi sono i fatti, cioè fate meno immagine e più sostanza. Ripeto, non è rivolto al collega Magliorano che non è a colpa, però l'amministrazione di Caro ha fatto questo. Consigliere Magliorano. Io non ho niente da dire anche al teleascoltatore, perché probabilmente ha detto anche alcune cose che avevo annunciato prima. Io anzi ringrazio tutta l'opera salesiana per il lavoro che svolge nel quartiere Libertà, perché non è solo il parco Mimobucci, ma c'è anche l'oratorio, dove ci sono tantissimi ragazzi. Io ho la fortuna di frequentarli da anni, perché ho detto prima, ma faccio parte di questa unione salesiana, non è un'associazione. Per fortuna non faccio parte di nessuna associazione, né culturale, né sociale, e quant'altro, perché faccio il consigliere comunale. Quindi mi dovrei occupare di tutto, non delle associazioni. Però ecco, quello che voglio rilanciare è il tavolo di concertazione. Perché purtroppo lì il problema c'è. Non è una situazione facile, una situazione tranquilla, come magari in altri quartieri della città. Lì è un quartiere che va attenzionato, probabilmente è stato fatto il bando, un errore. Ma quello che sia, cioè io non voglio entrare nel merito se qualcuno ha sbagliato o meno. Oggi si si resi conto che abbiamo saputo, perché l'ho saputo qualche giorno fa, che sono stati fatti dei bandi per assegnare il bar e non si presentava nessuno, nessuno che faceva le proposte. Quindi già da quel momento bisognava partire con... 30 secondi? 30 secondi, dobbiamo ridare la parola a Roberto. Questo è il tema, però io auspico che tutti insieme risolviamo il problema. E come ho detto prima, la proposta l'ho fatta già da qualche tempo. Il presidio dei carabinieri nella ex manufattura di tabacchi. Roberto, torno da te per il collegamento finale. Sì, molto brevemente. Assessore Introne, nel breve, quale sarà il segnale che daremo per questo parco? Allora, tra gli altri segnali io prendo in pieno quello che ha detto il dottor Antonacci. Cioè, animazione sicuramente tanta e la faremo grazie al nuovo sistema di affidamento del chioschetto che prevederà un soggetto professionista e in grado di reggersi economicamente. È un'educazione alla civiltà, un'educazione alla cultura. Io quando ho parlato di repressione, non paravo di repressione poliziesca, dicevo che se uno è un delinque fuori dal parco Bocci, voglio dire, devi perseguirlo tanto quanto il parco Bocci. Quindi facevo un discorso più largo e non... Non soltanto con le telecamere? Esattamente, non solo con le telecamere perché evidentemente non sono sufficienti in questo contesto. Anche probabilmente con una guardiania fissa e con delle attività sempre però pianificate in uno con la parrocchia, alla quale dobbiamo davvero dare un grande grazie e un segnale di rispetto e di profonda ammirazione. Credo che questo messaggio lo possiate ribadire anche voi? Assolutamente sì. Sì, con il direttore Don Francesco, noi siamo già a lavoro per pianificare una serie di interventi che saranno fatti nei prossimi mesi. Quindi noi siamo sul campo e continueremo ad esserlo anche in futuro. Un saluto a tutti. E cercheremo di esserci noi anche con Telebari perché ci teniamo a dirlo, comunque questa del parco Mimobucci e questa della legalità è una sfida che abbiamo accolto e qui teniamo moltissimo. Linea allo studio. Assolutamente, sono d'accordo con Roberto, sottoscrivo ogni sua parola e approfitto per mandare un bacio immenso alla signora Franca. Noi siamo in chiusura, consigliere Melchiorre, cambiamo per 30 secondi argomento, per quale motivo? Colore arancione, perché? Perché oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle bambine, è la giornata organizzata all'ONU, ecco perché questo colore deve far riflettere, fare in modo che le bambine che devono essere sempre più centrali nella nostra vita, non siano oggetto di violenza. Quindi denunciate se avete qualche percezione di qualche cosa che non va, perché va, è un fenomeno che purtroppo è crescente e va debellato. Tutto il resto noi vigileremo con attenzione. Stop, dobbiamo fermarci. I tifosi del Bari fremono, insomma, per l'altro spazio della nostra trasmissione. Cristian Siciliani è pronto. Io ringrazio il consigliere Massimo Maiorano per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Tra l'altro prenderemo seriamente in considerazione, magari la proporremo anche ai cittadini, la sua proposta, grazie al consigliere Filippo Mecchiaro. Felice giornata, nonostante non sia bellissimo, però deve essere felice nei nostri cuori. Grazie a voi soprattutto per averci seguito, per essere intervenuti. Qualche istante di musica e poi il Bari.